Quando superi una delle mie prove, non senti per caso il piacere di aver scoperto il giusto ordine delle cose? È la scintilla di Elohim dentro di te, per creare ordine dal caos. E qui si rivela il vero significato dei nostri sigilli. E qui si rivela il vero significato dei nostri sigilli. E qui si rivela il vero significato dei nostri sigilli. E qui si rivela il vero significato dei nostri sigilli. E qui si rivela il vero significato dei nostri sigilli. E qui si rivela il vero significato dei nostri sigilli. E qui si rivela il vero significato dei nostri sigilli. E qui si rivela il vero significato dei nostri sigilli. E qui si rivela il vero significato dei nostri sigilli. E qui si rivela il vero significato dei nostri sigilli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.